Intervenuto la trasmissione fatti e le opinioni andate in onda venerdì scorso su Rete8, il nuovo assessore regionale al turismo Moro Febo aveva dichiarato in risposta a precisa domanda dal conduttore Carmine Perantono, hanno detto che per 18 anni il parco nazionale della costa Tettina è rimasto bloccato per colpa mia, ebbene, lo sarà anche nei prossimi 5. In particolare Febo si riferiva agli eccessivi vincoli che l'istituzione di un parco comporterebbe allo sviluppo turistico del territorio. Dichiarazioni forti che hanno scatenato un ampio dibattito sul tema e che ha visto le repliche di numerosi tra politici ed ambientalisti. Le cose stanno esattamente al contrario di quanto afferma Febo, dichiara l'ex assessore regionale Silvio Palucci. Bloccare l'istituzione del parco sarebbe un errore gravissimo, vedremo se vorrà davvero mantenere questa posizione, nel caso siamo pronti a mettere in campo tutti gli strumenti di iniziativa politica perché questo obiettivo venga colto. Sulle vicende interviene anche Luciano Di Tizio, delegato Abruzzo del WWF, che ironicamente è precisa il deciso avanzamento dell'ITERA per l'istituzione del parco, la cui ultima parola spetta alla Presidente del Consiglio, e non a Febo. La vicenda è nelle mani del Presidente del Consiglio che deve solo inviare la pratica al Presidente della Repubblica per la firma. L'auspicio è che il Ministro Costa, che a differenza del CUNI tra i suoi alleati ben conosce il valore anche economico della tutela ambientale, voglia premere perché tutto questo finalmente avvenga. Da registrare anche una nota inviata dal Segretario Nazionale di Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo. Preoccupano le parole di Mauro Febo, dice Acerbo, scagliandosi anche con la politica ambigua del PD su questo tema, perché danno l'idea che un patrimonio di bellezza come la Costa Tettina, invece di essere valorizzato, possa essere oggetto di un assalto speculativo. Sulla vicenda, da sottolineare anche l'intervento dell'ex commissario per la perimetrazione del parco, l'architetto Pino De Dominicis. Quanto afferma Maro Febo, lo trovo coerente alla posizione sempre espressa dall'assessore. Quello che trovo assurdo e incoerente è stata la posizione del centro-sinistra che ha voluto il parco e nello stesso tempo è stato capace di impedirne la nascita una volta al Governo della Regione.